Si era smarrito e così, probabilmente in cerca di aiuto, è saltato nell'auto del comandante della compagnia dei carabinieri di Bibiena, Giuseppe Barbato, che assieme agli altri militari si è preso cura dell'amico a quattro zampe, sino a che non è stato ritrovato il proprietario. Una storia lieto fine che arriva dal Casentino. Ieri, infatti, la pattuglia della stazione Carabinieri di Rassina, con a bordo il comandante della compagnia, si è imbattuta nel cane che vagava lungo la strada regionale 71, all'altezza del corsalone. L'amico a quattro zampe era spaventato e stava creando problemi al traffico. Avrebbe infatti potuto causare un incidente e lui stesso sarebbe potuto rimanere ferito. Una volta fermato il traffico, il tempo di scendere dall'auto, il cagnolino si è fiondato nella macchina dei militari, accucciandosi sui sedili. I carabinieri hanno così rimediato un guinzaglio di fortuna utilizzando una delle cinghie per la pistola mitragliatrice ed hanno portato l'amico a quattro zampe in caserma a Rassina dove si sono messi alla ricerca del proprietario. La notizia è stata diffusa così tramite Facebook ed in serata un anziano di Montecchio di Chiusi della Verna ha riconosciuto il cane come suo ed è accorso a recuperarlo.